Sospesa l'attività in quattro aziende, combinate multe per oltre 28 mila euro. È il bilancio degli accessi ispettivi e dei controlli dei carabinieri del nucleo Ispettorato del Lavoro di Piacenza nell'ultimo mese e mezzo. Tre di queste si trovano nella bassa piacentina. I carabinieri, dopo l'accesso in un cantiere edile a Monticelli-Dongina, dove vi erano attive due ditte e a conclusione di tutto l'iter ispettivo, hanno denunciato il titolare 64enne dell'impresa appaltatrice per aver omesso la formazione dei lavoratori, per aver adibito un lavoratore alla mansione di Gruista, nonostante fosse sprovvisto della formazione all'uso dell'attrezzatura e per omessa visita medica. Per questo è stato attuato il provvedimento della sospensione dell'attività imprenditoriale. L'altro titolare dell'impresa edile presente in cantiere, che ha sede legale in provincia di Modena, invece è stato denunciato perché il ponteggio posto sulla facciata di ristrutturazione era sprovvisto dei parapetti di testata che impediscono il rischio di caduta dall'alto dei lavoratori. Anche in questo caso è stato attuato il provvedimento della sospensione dell'attività imprenditoriale. Complessivamente sono state elevate ammende pari a circa 12.500 euro. Dopo l'ispezione invece in un cantiere a Castelvetro-Piacentino, il titolare 56enne dell'impresa edile che stava eseguendo i lavori è stato denunciato per aver allestito un impalcato costituito da ponti metallici prefabbricati con elementi misti di tubi e giunti alto circa 3 metri senza aver effettuato i calcoli di resistenza e stabilità. Gli è stata elevata anche un'ammenda di 620 euro circa. Infine la titolare di una gelateria è stata denunciata per aver occupato un lavoratore straniero sprovvisto di regolare il permesso di soggiorno per motivi di lavoro ed è stata sanzionata per aver occupato in nero un lavoratore su quattro dipendenti con conseguente adozione del provvedimento di sospensione dell'attività. Le sanzioni amministrative elevate sono state pari a 6.820 euro.